Nessuno sapeva che era nel paese. Dobbiamo trovarlo. Ho la persona che serve. Lavora per noi da vent'anni. Dagli il via libera. Chi è il tizio? Uno della guerra sudanese. Si è radicalizzato. Ha contattato Victor Pastore. Temiamo che lo aiuti a organizzare un nuovo attentato. Ti infiltrerai nella sua organizzazione. Deve fidarsi di te. C'è stata una rissa ieri sera. Quello nuovo. Quando picchia è una specie di Tyson Fury. Colpisci e ritira. Andiamo allo zoo, ci accompagni? Da ieri il tuo nome mi frulla nella testa. Adam Franco. Per il bambino non mi serve un autista. Ma una guardia del corpo. Franco lo troverà. Hanno preso Jonathan. Lo uccideranno. A quanto pare eri pronto a morire. Che ne dici di cancellare tutto? Una nuova vita. Una nuova identità. Ciao. Grazie a tutti.